il problema in questo momento era il cavaliere ecco adesso 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 piccolo consiglio è ovvio no se tu stream devi alternare devi dare occhio a quello che succede nel gioco e quello che succede nella live effettivamente tenere d'occhio che vada tutto per come deve andare il problema è che qui a vaffanculo veramente qui c'è stata un attimo di una distrazione un attimo letale ecco che grazie a tutti